Spettacoloso! Michael, Jeffrey, Jordan! George Best Diego Armando Maradona I più grandi di sempre No, 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 signori, non ci sono storie Muhammad Ali È un po' come cercare di rubare le piccole idee Luigi Riva e Fabrizio De Andrè hanno un destino simile, comune hanno una predisposizione per questa isola meravigliosa incantata in mezzo al Mediterraneo, detta Sardegna Sono due solitari che vengono da due contesti opposti Luigi è un figlio di un operaio che era andato in guerra tre volte ma muore per un incidente sul lavoro e di una donna madre coraggio di quell'epoca lì che facevano dei sacrifici spaventosi per portare un piatto di minestra sul tavolo mentre Fabrizio è figlio di una buona borghesia genovese suo fratello fa l'avvocato lui fa il preside in una scuola E tu fai incontrare proprio in questa notte tra la cronaca e l'immaginario queste due figure che però si assomigliano hanno delle affinità elettive hanno una malinconia che li tutela dalle lusinghe ma hanno anche il gesto artistico che non è tanto dissimile dal gesto sportivo hanno una forte componente malinconica hanno una forte componente depressiva fanno per certi versi e non dovrebbe essere così un po' di tenerezza per via di questa sottile saturnina melancolia che li accompagna in tutto quello che fanno si sono incontrati una volta dopo una partita giocata a Genova da Luigi nel pomeriggio è la prima partita del campionato che poi il Cagliari vincerà per un motivo molto particolare ovvero sia Luigi non ha mai tenuto un ritaglio su se stesso in compenso era ossessionato dalle morti giovani come se gli dei richiamassero come è successo tante volte nella storia a sé i loro prediletti quindi teneva tantissimi articoli su Bandini pilota di Formula 1 della Ferrari morto a Gran Piero di Monaco e su Luigi Tenco quando Fabrizio De Andree esce dal funerale di Luigi Tenco scrive un pezzo di una bellezza assolutamente stordente di Dio fra le sue braccia soffocherà il singhiozzo di quelle labbra smorte che all'odio e all'ignoranza preferirono la morte Luigi comincia a sentire De Andree e lo sente in maniera ossessiva lo va continuamente sia sull'autoradio che sul pullman della squadra un suo compagno di squadra che era stato con lui a Cagliari l'anno dopo va a giocare al Genoa Ferrero dice guarda Luigi che qui Fabrizio lo vediamo continuamente perché è super tifoso della squadra io quasi quasi posso fare un tentativo vi organizzo qualche cosa ed effettivamente la sera di quella partita si incontrano quello che loro hanno narrato di questo incontro è del gran whisky delle gran sigarette più o meno tre ore di silenzio poi Luigi chiede a Fabrizio chi l'ha ispirato la risposta è Georges Brassant ovvero sia un chansonnier molto bravo molto noto e da lì cominciano a parlare non hanno mai detto cosa realmente si siano detti cioè noi dobbiamo immaginare che cosa si siano detti una cosa certa che alla fine della nottata si sono scambiati la chitarra con la maglia della partita e quindi noi sappiamo come è iniziata e com'è finita ma quello che c'è stato in mezzo è più o meno da immaginare l'inferno esiste solo per chi ne ha paura però forse quello che tu evidenzi bene è il fatto che siano tutti e due outsider nel senso totalmente Gigi Riva sarebbe potuto andare ovviamente alle grandi squadre del nord probabilmente guadagnare di più o vincere di più ma lui invece ti dice no guardi senta signor Buccella perché ti darebbe del lei no io veramente se mi avessi fatto il calcio del nord avrei fatto il contrabbandiere è meraviglioso e lo dice senza cambiare espressione quindi lo pensa e l'essere wild slider era evidente per lui ma quando va in collegio parla quasi sempre in dialetto è schivo neanche lo fanno giocare a calcio finché un giorno ne manca uno lui gioca e fa tutti i gol che si possono fare è un ragazzino di undici anni in una partitella di quel genere l'altro è un uomo contro è sempre contro è sempre alternativo è sempre barricadero è sempre penetrante anche angosciante in quanto penetra in fondo tutte e due sia Gigi Riva che Fabrizio Di Andrè sono stati dei portavoce per delle persone che avevano meno potere contrattuale nei confronti della vita vale per gli invisibili di Di Andrè ma come anche per la gente della Sardegna dell'isola per Gigi Riva bellissima questa tua osservazione perché io proprio mi immagino che Luigi abbia detto quella cosa a Fabrizio alla fine grazie per aver dato voce agli invisibili come sarei stato io se avessi fatto il contrabbandiere una delle cose che colpisce tantissimo è che per quei calciatori che in un modo o nell'altro o sportivi in generale vale anche per il basket dell'NBA trovano la visibilità ce ne sono tanti che non solo trovano il buio ma diventano poveri velocemente in questi giorni io sono in tour con uno spettacolo sull'Italia mondiale ed 82 perché ricorre il quarantennale e una cosa che mi piace dire nello spettacolo è che Bruno Conti che è stato il miglior giocatore insieme a Tardelli di quella nazionale è finita la scuola dell'obbligo cioè la terza media va a fare il muratore con suo padre Dino Zoff ha fatto l'operaio Claudio Gentile ha fatto l'operaio Marco Tardelli fa il cameriere quello che voglio dire è questo ovvero se all'epoca non erano professionisti a 13 anni con le famiglie che sognavano il grande investimento nel calcio nel modo più assoluto speravano che agirasse bene ma intanto fai il muratore con il Papa Conti impari un'idea di fatica che secondo me oggi è piuttosto lontana da un tredicenne che vuol giocare a pallone pensa già di fare professionista l'idea di farcela come ce l'hanno fatta loro secondo me è più naturale non è tutto già scritto non sono così bravo come credono o come mi dicono io devo fare fatica e fare fatica è una cosa che nobilita l'essere umano e da questo punto di vista che differenza c'è tra il mondo europeo è quello degli Stati Uniti del basket, dell'NBA per esempio l'idea che mi colpisce del loro mondo è che è un mondo solo professionistico cioè in un mondo dove non ci sono le retrocessioni dove ci sono dei contratti che hanno dietro una trattativa sindacale che nel calcio non c'è dove i giocatori hanno molti più diritti dove i giocatori si esprimono molto di più i calciatori hanno paura di dare un'opinione nel modo più assoluto invece i giocatori specialmente quelli dell'NBA no, tutt'altro oppure Colin Kaepernick che non giocherà mai più un minuto della sua vita a football perché si è messo in ginocchio durante l'inno nazionale è un caso di mobbing però in maniera scaltra e furbesca le squadre della NFL gli offrono di fare un piccolo provino e poi dicono che non lo prendono è raro pensare a un calciatore che si esprima così tanto per dare voce a chi non ce l'ha è impensato come Lebron per dire come Lebron Lebron è uno che ci mette la faccia ci mette il corpo ci mette l'intenzione e questo mi fa molto effetto perché il mondo del calcio invece a questo punto di vista è molto vattato in più se tu noti nel calcio a differenza di quello che succede per esempio negli Stati Uniti in tutti gli sport lì ti danno la cifra lorda Lebron James prende al centesimo perché tutto deve essere pubblico se no questo giochino meraviglioso che ha messo in piedi non funziona quindi tu sai esattamente alla virgola cosa entra Lebron James che deve pagare le tasse su quella cifra nel calcio ti dicono già il netto che non è ovviamente quanto viene versato ma non vuoi far sapere quanto invece di quello che dovrebbero versare ai sensi di legge non viene versato quando vanno davanti a un magistrato come è successo per esempio a Lionel Messi e suo padre Jorge la pena detentiva viene commutata in pena pecuniaria e praticamente il signor Lionel Messi e suo padre Jorge devono tirar fuori 250 mila euro che praticamente come dire papà hai spicci stasera che io sono uscito senza negli Stati Uniti se Lebron va del fisco non gioca più una partita e va anche al gabbio cioè ti do tanto ma non ti azzardare se sei un personaggio pubblico non ti azzardare a frodare un dollaro al sistema che ti ha portato lì Sai quando si dice i calciatori o gli sportivi sono dei mercenari Noi non ragioniamo però sul fatto che veramente te li danno gli altri soldi tu mica vai lì a estorcerli te li danno e soprattutto qualsiasi sportivo ti dice sì ma la nostra carriera dura un periodo limitato e può essere completamente distrutta da un infortunio o da un incidente particolare quindi noi dobbiamo monetizzare più che possiamo il sistema in questo momento è talmente ricco di suo per via dei diritti televisivi che ovviamente drogano tutto il sistema perché sono la chiave di volta di ogni prebenda che viene data a uno sportivo i diritti televisivi hanno cambiato per sempre la storia dello sport però quello che mi viene in mente è Leopardi il dialogo tra un fisico e un metafisico che dice una vita ha un numero di emozioni forte limitato un conto se tu hai 20 anni un conto hai 40 anni rimane a quel numero limitato lì lo sportivo fa parte della prima categoria Sì assolutamente sì lo sportivo non ricorda i giorni ricorda gli attimi magari fa fatica a ricordarsi l'anno ma l'attimo se lo ricorda perfettamente è morto recentemente Bill Russell che è l'uomo che ha vinto di più nella storia dell'NBA cioè non aveva abbastanza dita per gli anelli che gli servivano lucidissimo fino all'ultimo giorno gli facendo vedere delle partite del college quindi stiamo parlando degli anni 50 lui diceva adesso si ti ricorda cosa succede e la moglie lo guardava dicendo ma Bill come fa a ricordarti lui le descriveva le prossime 5 azioni di una cosa successa tipo nel metà degli anni 50 questo è un attimo che non riesce a fermare secondo te adesso qual è il costo il prezzo del talento? il talento non sta da solo a sinistra c'è il talento a destra c'è il sacrificio e in questa ellisse passa la parola chiave che è la fase ossessiva ovvero sia perché Kobe Bryant è sveglio il giorno delle tue regionelle? sono le 6 del mattino a Los Angeles se sono le 9 a New York perché è convinto che sulla costa est ci sia qualcuno che si sta allenando mentre lui dorme si sta allenando per battermi e io non posso permettere che questo succeda senza reagire quindi io mi alzo come se vivessi nella costa est questa è una fase ossessiva allo stato puro ma il talento è innegabile straripante ma senza la fase ossessiva e il sacrificio il giocatore non diventa quello il giocatore non diventa quello il giocatore non diventa quello che è un'esercizio che è un'esercizio che è un'esercizio